ciao raga oggi io il mio fidanzato che non si può far vedere ea me va bene così andremo ad assaggiare questi due panettoncini ovviamente lui interisti quindi quello dell'inter e io quello della juve tanto è sempre della balocco quindi quello scatolino la juve è molto simile a quello dell'anno scorso oggi facciamo una buona merenda come potete vedere dentro vuoto ed è così e il panettone e con i canditi giusto no no vabbè il classico panettone normale mi vado ad armare di coltello allora come vedete raga prima mi sono sbagliata non ci sono i canditi ma c'è l'uvetta abbiamo il coltello c'era anche lui andiamo ad assaggiare questo panettone che io poi l'ho già assaggiato anche uno scorso se non sbaglio adesso già con tutti dentro è così diciamo che l'uvetta sono solo all'esterno ah in quello dell'inter ce n'è di più cavolo a me piace l'uvetta no solo l'uvetta questo è vabbè dettagli però io ce l'ho anche pochi allora forse ho tagliato nella parte sbagliata io perché di qua ce n'è vabbè io comunque l'ho già assaggiato voto 9 adesso sta a lui dare il voto che voto dai da 1 a 10 sì un voto cioè lui è più più moderato rispetto a me detto questo io vi saluto e noi ce ne alla prossima ciao